buongiorno a tutti da Livigno siamo sulla pista lizzetta appena stata preparata per gli allenamenti di alto livello dalle squadre nazionali ai club la pista dietro le mie spalle la pista lizzetta messa a disposizione dalla società sitas e abbiamo alla nostra sinistra la possibilità di fare gigante e slalom su una pista barrata molto ben preparata e sulla parte destra gigante slalom per children abbiamo anche altre piste nella parte alta che una è la larici una pista molto bella molto impegnativa per il gigante e abbiamo anche delle piste dedicate per i children e i baby cuccioli sempre nella parte superiore quindi vi aspettiamo a Livigno per allenarci e per allenarvi